novembre lo spazzacamino 1 martedì ieri sera andai alla sezione femminile accanto alla nostra per dare il racconto del ragazzo padovano alla maestra di silvia che lo voleva leggere 700 ragazze ci sono quando arrivai cominciavano a uscire tutte allegre per le vacanze d'ogni santi e dei morti ed ecco una bella cosa che vidi di fronte alla porta della scuola dall'altra parte della via stava con un braccio appoggiato al muro e con la fronte contro il braccio uno spazzacamino molto piccolo tutto nero in viso col suo sacco e il suo raschiatoio e piangeva direttamente singhiozzando due o tre ragazze della seconda gli si avvicinarono e gli dissero che hai che piangi a quella maniera ma egli non rispose e continuava a piangere ma di che cos'hai perché piangi gli ripeterono le ragazze e allora egli levò il viso dal braccio un viso di bambino e disse piangendo che era stato in varie case a spazzare dove si era guadagnato 30 soldi e li aveva persi gli erano scappati per la sdrucitura ad una tasca e faceva vedere la sdrucitura e non osava più tornare a casa senza i soldi il padrone mi bastona disse singhiozzando e riabbandonò il capo sul braccio come un disperato le bambine stetterò a guardarlo tutte serie intanto si erano avvicinate altre ragazze grandi e piccole povere e signorine con le loro cartelle sotto il braccio e una grande che aveva una penna azzurra sul cappello cavò di tasca due soldi e disse io non ho che due soldi facciamo la colletta anch'io o due soldi disse un'altra vestita di rosso ne troveremo ben 30 fra tutte e allora cominciarono a chiamarsi amalia luigia annina un soldo chi ha dei soldi qua i soldi parecchie avevan dei soldi per comprarsi fiori o quaderni e li portarono alcune più piccole diedero dei centesimi quella della penna azzurra raccoglieva tutto e contava a voce alta 8 10 15 ma ci voleva altro allora comparve una più grande di tutte che pareva quasi una maestrina e diede mezza lira e tutte a farle festa mancavano ancora cinque soldi ora vengono quelle della quarta che ne hanno disse una quelle della quarta vennero e i soldi fioccarono tutte si affollavano ed era bello a vedere quel povero spazzacamino in mezzo a tutte quelle vestine di tanti colori a tutto quel rigirio di penne di nastrini di riccioli i 30 soldi c'erano già e ne venivano ancora e le più piccine che non avevan denaro si facevano largo tra le grandi porgendo i loro mazzetti di fiori tanto per dar qualche cosa tutta un tratto arrivò la portinaia gridando la signora direttrice le ragazze scapparono da tutte le parti come uno stormo di passeri e allora si vide il piccolo spazzacamino solo in mezzo alla via che si asciugava gli occhi tutto contento con le mani piene di denari e aveva nella bottonatura della giacchetta nelle tasche nel cappello tanti mazzetti di fiori e c'erano anche dei fiori per terra ai suoi piedi il giorno dei morti due mercoledì questo giorno è consacrato alla commemorazione dei morti sai enrico a quali morti dovreste tutti dedicare un pensiero in questo giorno voi altri ragazzi a quelli che morirono per voi per i ragazzi per i bambini quanti ne morirono e quanti ne muoiono di continuo pensasti mai a quanti padri si logorarono la vita al lavoro a quante madri discesero nella fossa innanzitempo consumate dalle privazioni a cui si condannarono per sostentare i loro figliuoli sai quanti uomini si piantarono un coltello nel cuore per la disperazione di vedere i propri ragazzi nella miseria e quante donne s'annegarono o morirono di dolore o impazzirono per aver perduto un bambino pensa a tutti quei morti in questo giorno enrico pensa alle tante maestre che sono morte giovani intisichite dalle fatiche della scuola per amore dei bambini da cui non ebbero cuore di separarsi pensa ai medici che morirono di malattie attaccaticce sfidate coraggiosamente per curare dei fanciulli pensa a tutti coloro che nei naufragi negli incendi nelle carestie in un momento di supremo pericolo cedettero all'infanzia l'ultimo tozzo di pane l'ultima tavola di salvamento l'ultima fune per scampare alle fiamme espirarono contenti del loro sacrificio che serbava in vita un piccolo innocente sono innumerevoli enrico questi morti ogni cimitero ne racchiude centinaia di queste sante creature che se potessero levarsi un momento dalla fossa griderebbero il nome di un fanciullo al quale sacrificarono i piaceri della gioventù la pace della vecchiaia gli affetti l'intelligenza la vita spose di vent'anni uomini nel fior delle forze vecchie o tuagenarie giovinetti martiri eroici e oscuri dell'infanzia così grandi e così gentili che non fa tanti fiori la terra quanti ne dovremmo dare i loro sepolcri tanto siete amati o fanciulli pensa oggi a quei morti con gratitudine e sarai più buono e più affettuoso con tutti quelli che ti vogliono bene e che faticano per te caro figlio al mio fortunato che nel giorno dei morti non hai ancora da piangere nessuno tua madre il mio amico garrone 4 venerdì non furon che due giorni di vacanza e mi parve di star tanto tempo senza rivedere garrone quanto più lo conosco tanto più gli voglio bene e così segue a tutti gli altri fuorché ai prepotenti che con lui non se la dicono perché egli non lascia far prepotenze ogni volta che uno grande alza la mano su di uno piccolo il piccolo grida garrone e il grande non picchia più suo padre macchinista della strada ferrata egli cominciò tardi le scuole perché fu malato due anni è il più alto e il più forte della classe alza un banco con una mano mangia sempre è buono qualunque cosa gli domandino matita gomma carta temperino impresta o da tutto e non parla e non ride in scuola se ne sta sempre immobile nel banco troppo stretto per lui con la schiena arrotondata e il testone dentro le spalle e quando lo guardo mi fa un sorriso con gli occhi socchiusi come per dirmi ebbene enrico siamo amici ma a far ridere grande e grosso com'è che ha giacchetta calzoni maniche tutto troppo stretto e troppo corto un cappello che non gli sta in capo il capo rapato le scarpe grosse e una cravatta sempre attorcigliata come una corda caro garrone basta guardarlo in viso una volta per prendergli affetto tutti più piccoli gli vorrebbero essere vicini di banco sa bene l'aritmetica porta i libri a castellina legati con una cigna di cuoio rosso a un coltello col manico di madre perla che trovò l'anno passato in piazza d'armi e un giorno si tagliò un dito fino all'osso ma nessuno in scuola se ne avvide e a casa non rifiatò per non spaventare i parenti qualunque cosa si lascia dire per celia e mai non se n'ha per male ma guai se gli dicono non è vero quando afferma una cosa getta fuoco dagli occhi allora e martella pugni da spaccare il banco sabato mattina diede un soldo a uno della prima superiore che piangeva in mezzo alla strada perché gli avevano preso il suo e non poteva più comprare il quaderno ora sono tre giorni che sta lavorando attorno a una lettera di otto pagine con ornati a penna nei margini per l'onomastico di sua madre che spesso viene a prenderlo ed è alta e grossa come lui e simpatica il maestro lo guarda sempre e ogni volta che gli passa accanto gli batte la mano sul collo come a un buon torello tranquillo io gli voglio bene sono contento quando stringo nella mia la sua grossa mano che parla mano di un uomo sono così certo che rischierebbe la vita per salvare un compagno che si farebbe anche ammazzare per difenderlo si vede così chiaro nei suoi occhi e benché paia sempre che brontoli con quel vocione è una voce che viene da un cor gentile si sente il carbonaio e il signore 7 lunedì non l'avrebbe mai detta garrone sicuramente quella parola che disse ieri mattina carlo nobis abbetti carlo nobis è superbo perché suo padre è un gran signore un signore alto con tutta la barba nera molto serio che viene quasi ogni giorno ad accompagnare il figliuolo ieri mattina nobis si visticiò con betti uno dei più piccoli figliuolo di un carbonaio e non sapendo più che rispondergli perché aveva torto gli disse forte tuo padre è uno straccione betti arrossì fino ai capelli e non disse nulla ma gli vennero le lacrime agli occhi e tornato a casa ripete la parola a suo padre ed ecco il carbonaio un piccolo uomo tutto nero che compare alla lezione del dopopranzo col ragazzo per mano a fare le lagnanze al maestro mentre faceva le sue lagnanze al maestro e tutti tacevano il padre di nobis che levava il mantello al figliuolo come al solito sulla soglia dell'uscio udendo pronunciare il suo nome entrò e domandò spiegazione è questo operaio rispose il maestro che è venuto a lagnarsi perché il suo figliuolo carlo disse al suo ragazzo tuo padre è uno straccione il padre di nobis corrugò la fronte e arrossì leggermente poi domandò il figliuolo hai detto quella parola il figliuolo ritto in mezzo alla scuola col capo basso davanti al piccolo betti non rispose allora il padre lo prese per un braccio e lo spinse più avanti in faccia a betti che quasi si toccavano e gli disse domandagli scusa il carbonaio volle interporsi dicendo no no ma il signore non gli badò e ripeti al figliuolo domandagli scusa ripeti le mie parole io ti domando scusa della parola ingiuriosa insensata ignobile che dissi contro tuo padre al quale il mio si tiene onorato di stringere la mano il carbonaio fece un gesto risoluto come a dire non voglio il signore non gli dirretta e il suo figliuolo disse lentamente con un fil di voce senza alzar gli occhi da terra io ti domando scusa della parola ingiuriosa insensata ignobile che dissi contro tuo padre al quale il mio si tiene onorato di stringer la mano allora il signore porse la mano al carbonaio il quale gli elastrinse con forza e poi subito con una spinta gettò il suo ragazzo fra le braccia di carlo nobis mi faccia il favore di metterli vicini disse il signore al maestro il maestro mise betti nel banco di nobis quando furono al posto il padre di nobis fece un saluto ed uscì il carbonaio rimase qualche momento sopra pensiero guardando i due ragazzi vicini poi si avvicinò al banco e fissò nobis con espressione d'affetto e di rammarico come se volesse dirgli qualcosa ma non disse nulla allungò la mano per fargli una carezza ma neppure usò e gli strisciò soltanto la fronte con le sue grosse dita poi si avviò all'uscio e voltatosi ancora una volta a guardarlo sparì ricordatevi bene di quel che avete visto ragazzi disse il maestro questa è la più bella lezione dell'anno la maestra di mio fratello 10 giovedì il figliuolo del carbonaio fu scolaro della maestra del cati che è venuta oggi a trovare mio fratello malaticcio e ci ha fatto ridere a raccontarci che la mamma di quel ragazzo due anni fa le portò a casa una grande grembialata di carbone per ringraziarla che aveva dato la medaglia al figliuolo e sostinava povera donna non voleva riportarsi il carbone a casa e piangeva quasi quando dovete tornarsene col grembiale pieno anche d'un'altra buona donna ci ha detto che le portò un mazzetto di fiori molto pesante e c'era dentro un gruzzoletto di soldi ci siamo molto divertiti a sentirla e così mio fratello trangugiò la medicina che prima non voleva quanta pazienza debbono avere con quei ragazzi della prima inferiore tutti sdentati come vecchietti che non pronunziano le r e le s e uno tosse e l'altro fila sangue dal naso chi perde gli zoccoli sotto il banco e chi bela perché si è punto con la penna e chi piange perché ha comprato un quaderno numero due invece di numero uno 50 in una classe che non sa nulla con quei manini di burro e dover insegnare a scrivere a tutti e si portano in tasca dei pezzi di regolizia dei bottoni dei turaccioli di boccetta del mattone tritato ogni specie di cose minuscole e bisogna che la maestra li frughi ma nascondono gli oggetti fin nelle scarpe e non stanno attenti un moscone che entra per la finestra mette tutti sotto sopra e l'estate portano in scuola dell'erba e dei maggiolini che volano in giro o cascano nei calamai e poi rigano i quaderni di inchiostro la maestra deve far la mamma con loro aiutarli a vestirsi fasciare le dita punte raccattare i berretti che cascano badare che non si scambino i cappotti se no poi gnaulano e strillano povere maestre e ancora vengono le mamme allagnarsi come va signorina che il mio bambino ha perso la penna com'è che il mio non impara niente perché non dà la menzione al mio che sa tanto perché non fa levar quel chiodo dal banco che ha stracciato i calzoni al mio piero qualche volta si arrabbia coi ragazzi la maestra di mio fratello e quando non ne può più si morde un dito per non lasciare andare una pacca perde la pazienza ma poi si pente e carezza il bimbo che ha sgridato scaccia un monello di scuola ma si ribeve le lacrime e va in collera coi parenti che fan digiunare i bimbi per castigo è giovane e grande la maestra del cati e vestita bene bruna e irrequieta che fa tutto a scatto di molla e per un nulla si commuove e allora parla con grande tenerezza ma almeno i bimbi le si affezionano le ha detto mia madre molti sì ha risposto ma poi finito l'anno la maggior parte non ci guardan più quando sono coi maestri si vergognano quasi d'essere stati da noi da una maestra dopo due anni di cure dopo che si è amato tanto un bambino ci fa tristezza separarci da lui ma si dice oh di quello lì son sicura quello lì mi vorrà bene ma passano le vacanze si rientra alla scuola gli corriamo incontro oh bambino bambino mio e lui volta il capo da un'altra parte qui la maestra si è interrotta ma tu non farai così piccino ha detto poi alzandosi con gli occhi umidi e baciando mio fratello tu non la volterai la testa dall'altra parte non è vero non la rinnegherai la tua povera amica mia madre dieci giovedì in presenza della maestra di tuo fratello tu mancasti di rispetto a tua madre che questo non avvenga mai più enrico mai più la tua parola irriverente m'è entrata nel cuore come una punta d'acciaio io pensai a tua madre quando anni sono stettechinata tutta una notte sul tuo piccolo letto a misurare il tuo respiro piangendo sangue dall'angoscia e battendo i denti dal terrore che credeva di perderti ed io temevo che smarrisse la ragione e a quel pensiero provai un senso di ribrezzo per te tu offender tua madre tua madre che darebbe un anno di felicità per risparmiarti un'ora di dolore che mendicherebbe per te che si farebbe uccidere per salvarti la vita senti enrico fissati bene in mente questo pensiero immagina pure che ti siano destinati nella vita molti giorni terribili il più terribile di tutti sarà il giorno in cui perderai tua madre mille volte enrico quando già sarai uomo forte provato a tutte le lotte tu la invocherai oppresso da un desiderio immenso di risentire un momento la sua voce e di rivedere le sue braccia aperte per gettarvi ti singhiozzando come un povero fanciullo senza protezione e senza conforto come ti ricorderai allora ad ogni amarezza che le avrai cagionato e con che rimorsi le sconterai tutte infelice non sperar serenità nella tua vita se avrai contristato tua madre tu sarai pentito le domanderai perdono venererai la sua memoria inutilmente la coscienza non ti darà pace quella immagine dolce e buona avrà sempre per te un'espressione di tristezza e di rimprovero che ti metterà l'anima alla tortura o enrico bada questo è il più sacro degli affetti umani disgraziato che lo calpesta l'assassino che rispetta sua madre ha ancora qualcosa di onesto e di gentile nel cuore il più glorioso degli uomini che la dolori e l'offenda non è che una vile creatura che non tesca mai più dalla bocca una dura parola per colei che ti diede la vita e se una ancora te ne sfuggisse non sia il timore di tuo padre sia l'impulso dell'anima che ti getti ai suoi piedi a supplicarla che col bacio del perdono ti cancelli dalla fronte il marchio dell'ingratitudine io t'amo figlio al mio tu sei la speranza più cara della mia vita ma vorrei piuttosto vederti morto che ingrato a tua madre va e per un po di tempo non portarmi più la tua carezza non te la potrei ricambiare col cuore tuo padre il mio compagno coretti 13 domenica mio padre mi perdonò ma io rimasi un poco triste e allora mia madre mi mandò col figliuolo grande del portinaio a fare una passeggiata sul corso a metà circa del corso passando vicino a un carro fermo davanti a una bottega mi sento chiamare per nome mi volto era coretti il mio compagno di scuola con la sua maglia color cioccolata e il suo berretto di pelo di gatto tutto sudato e allegro che aveva un gran carico di legna sulle spalle un uomo ritto sul carro gli porgeva una bracciata di legna per volta egli le pigliava e le portava nella bottega di suo padre dove in fretta e in furia le accatastava che fai coretti gli domandai non vedi rispose tendendo le braccia per pigliare il carico ripasso la lezione io risi ma egli parlava sul serio e presa la bracciata di legna cominciò a dire correndo chiamarsi accidenti del verbo le sue variazioni secondo il numero secondo il numero la persona e poi buttando giù la legna e accatastandola secondo il tempo secondo il tempo a cui si riferisce l'azione e tornando verso il carro a prendere un'altra bracciata secondo il modo in cui l'azione è enunciata era la nostra lezione di grammatica per il giorno dopo che vuoi mi disse metto il tempo approfitto mio padre è andato via col garzone per una faccenda mia madre è malata tocca a me a scaricare intanto ripasso la grammatica è una lezione difficile oggi non riesco a pestarmela nella testa mio padre ha detto che sarà qui alle sette per darvi soldi disse poi all'uomo del carro il carro partì vieni un momento in bottega mi disse coretti entrai era uno stanzone pieno di cataste di legna e di fascine con una stadera da una parte oggi è giorno di sgobbo te lo accerto io ripigliò coretti debbo fare il lavoro a pezzi a bocconi stavo scrivendo le proposizioni è venuta gente a comprare mi son rimesso a scrivere eccoti il carro questa mattina ho già fatto due corsi al mercato delle legna in piazza venezia non mi sento più le gambe e ho le mani gonfie starei fresco se avessi il lavoro di disegno e intanto dava un colpo di scopa alle foglie secche e ai fuscelli che coprivano l'ammattonato ma dove lo fai il lavoro coretti gli domandai non qui di certo riprese vieni a vedere e mi condusse in uno stanzino dietro la bottega che serve da cucina e da stanza da mangiare con un tavolo in un canto dove c'aveva i libri e i quaderni e il lavoro incominciato giusto appunto disse ho lasciato la seconda risposta per aria col cuoio si fanno le calzature le cinghie ora ci aggiungo le valigie e presa la penna si mise a scrivere con la sua bella calligrafia c'è nessuno su di gridare in quel momento dalla bottega era una donna che veniva a comprar fascinotti eccomi rispose coretti e saltò di là pesò i fascinotti prese i soldi corse in un angolo a segnare la vendita in uno scartafaccio e ritornò il suo lavoro dicendo vediamo un po se mi riesce di finire il periodo e scrisse le borse da viaggio gli zaini per i soldati ah il mio povero caffè che scappa via gridò all'improvviso e corse al fornello a levare la caffettiera dal fuoco è il caffè per la mamma disse bisogno bene che imparassi a farlo aspetta un po che glielo portiamo così ti vedrà le farà piacere sono sette giorni che a letto accidenti del verbo mi scotto sempre le dita con questa caffettiera che cosa ho da aggiungere dopo gli zaini per i soldati ci vuole qualche altra cosa e non la trovo vieni dalla mamma aperse un uscio entrammo in un'altra camera piccola c'era la mamma di coretti in un letto grande con un fazzoletto bianco intorno al capo ecco il caffè mamma disse coretti porgendo la tazza questo è un mio compagno di scuola ah bravo il signorino mi disse la donna viene a far visita ai malati non è vero intanto coretti accomodava i guanciali dietro alle spalle di sua madre raggiustava le coperte del letto riattezzava il fuoco cacciava il gatto dal cassettone vi occorre altro mamma domandò poi ripigliando la tazza le avete presi due cucchiaini di sciroppo quando non ce ne sarà più darò una scappata dallo speziale le legna sono scaricate alle quattro metterò la carne al fuoco come avete detto e quando passerà la donna del burro le darò quegli otto soldi tutto andrà bene non vi date pensiero grazie figliuolo rispose la donna povero figliuolo va e gli pensa a tutto volle che pigliassi un pezzo di zucchero e poi coretti mi mostrò un quadretto il ritratto in fotografia di suo padre vestito da soldato con la medaglia al valore che guadagnò nel 66 nel quadrato del principe umberto lo stesso viso del figliuolo con quegli occhi vivi e quel sorriso così allegro tornammo nella cucina ho trovato la cosa disse coretti e aggiunse sul quaderno si fanno anche i finimenti dei cavalli il resto lo farò stasera starò levato fino a più tardi felice te che hai tutto il tempo per studiare e poi ancora andare a passeggio e sempre gaio e lesto rientrato in bottega cominciò a mettere dei pezzi di legno sul cavalletto e a segarli per mezzo e diceva questa è ginnastica altro che la spinta delle braccia avanti voglio che mio padre trovi tutte queste legne assegate quando torna a casa sarà contento il male è che dopo aver segato faccio dei t e degli l che paio serpenti come dice il maestro che c'ho da fare gli dirò che ho dovuto menare le braccia quello che importa è che la mamma guarisca presto questo sì oggi sta meglio grazie al cielo la grammatica la studierò domattina al canto del gallo oh ecco la carretta coi ceppi al lavoro una carretta carica di ceppi si fermò davanti alla bottega coretti corse fuori a parlare con l'uomo poi tornò ora non posso più tenerti compagnia mi disse arrivederci domani hai fatto bene a venirmi a trovare buona passeggiata felice te e strettami la mano corse a pigliare il primo ceppo e ricominciò a trottare fra il carro e la bottega col viso fresco come una rosa sotto al suo berretto di pel di gatto e vispo che metteva allegrezza a vederlo felice te egli mi disse ah no coretti no sei tu il più felice tu perché studi e lavori di più perché sei più utile a tuo padre e a tua madre perché sei più buono cento volte più buono e più bravo di me caro compagno mio il direttore 18 venerdì coretti era contento questa mattina perché è venuto ad assistere al lavoro d'esame mensile il suo maestro di seconda coatti un omone con una grande capigliatura crespa una gran barba nera due grandi occhi scuri e una voce da bombarda il quale minaccia sempre i ragazzi di farli a pezzi e di portarli per il collo in questura e fa ogni specie di facce spaventevoli ma non castiga mai nessuno anzi sorride sempre dentro la barba senza farsi scorgere otto sono con coatti i maestri compreso un supplente piccolo e senza barba che pare un giovinetto c'è un maestro di quarta zoppo imbacuccato in una grande cravatta di lana sempre tutto pieno di dolori e si prese quei dolori quando era maestro rurale in una scuola umida dove i muri gocciolavano un altro maestro di quarta è vecchio e tutto bianco ed è stato maestro dei ciechi ce n'è uno ben vestito con gli occhiali e due baffetti biondi che chiamavano l'avvocatino perché facendo il maestro studiò da avvocato e prese la laurea e fece anche un libro per insegnare a scriverle lettere invece quello che ci insegna la ginnastica è un tipo di soldato è stato con garibaldi e ha sul collo la cicatrice di una ferita di sciabola toccata alla battaglia di milazzo poi c'è il direttore alto calvo con gli occhiali d'oro con la barba grigia che gli viene sul petto tutto vestito di nero e sempre abbottonato fin sotto il mento così buono coi ragazzi che quando entrano tutti tremanti in direzione chiamati per un rimprovero non li sgrida ma li piglia per le mani e dice tante ragioni che non dovevano far così e che bisogna che si pentano e che promettano di essere buoni e parla con tanta buona maniera e con una voce così dolce che tutti escono con gli occhi rossi più confusi che se li avesse puniti povero direttore egli è sempre il primo al suo posto la mattina a aspettare gli scolari e a dar retta ai parenti e quando i maestri sono già avviati verso casa gira ancora intorno alla scuola a vedere che i ragazzi non si caccino sotto le carrozze o non si trattengan per le strade a far querciola o a impir gli zaini di sabbia o di sassi e ogni volta che appare a una cantonata così alto e nero stormi di ragazzi scappano da tutte le parti piantando lì il gioco dei pennini e delle biglie ed egli li minaccia con l'indice da lontano con la sua aria amorevole e triste nessuno l'ha più visto ridere dice mia madre dopo che gli è morto il figliuolo che era volontario nell'esercito ed egli ha sempre il suo ritratto davanti agli occhi sul tavolino della direzione e se ne voleva andare dopo quella disgrazia aveva già fatto la sua domanda di riposo al municipio e la teneva sempre sul tavolino aspettando di giorno in giorno a mandarla perché egli rincresceva di lasciare i fanciulli ma l'altro giorno pareva deciso e mio padre che era con lui nella direzione gli diceva che peccato che se ne vada signor direttore quando entrò un uomo a far iscrivere un ragazzo che passava da un'altra sezione alla nostra perché aveva cambiato di casa a veder quel ragazzo il direttore fece un atto di meraviglia lo guardò un pezzo guardò il ritratto che tiene sul tavolino e tornò a guardare il ragazzo tirandoselo fra le ginocchia e facendogli alzare il viso quel ragazzo somigliava tutto al suo figliuolo morto il direttore disse va bene fece l'iscrizione congedò padre e figlio e restò pensieroso che peccato che se ne vada ripete mio padre e allora il direttore prese la sua domanda di riposo la fece in due pezzi e disse rimango i soldati 22 martedì il suo figliuolo era volontario nell'esercito quando morì per questo il direttore va sempre sul corso a veder passare i soldati quando usciamo dalla scuola ieri passava un reggimento di fanteria e 50 ragazzi si misero a saltellare intorno alla banda musicale cantando e battendo il tempo con le righe sugli zaini e sulle cartelle noi stavamo in un gruppo sul marciapiede a guardare garrone strizzato nei suoi vestiti troppo stretti che addentava un gran pezzo di pane votini quello ben vestito che si leva sempre i peluzzi dei panni precossi il figliuolo del fabbro con la giacchetta di suo padre e il calabrese e il muratorino e crossi con la sua testa rossa e franti con la sua faccia tosta e anche robetti il figliuolo del capitano d'artiglieria quello che salvò un bambino dall'omnibus e che ora cammina con le stampelle franti fece una risata in faccia un soldato che zoppicava ma subito si sentì la mano di un uomo sulla spalla si voltò era il direttore vada gli disse il direttore schernire un soldato quando è nelle file che non può né vendicarsi né rispondere è come insultare un uomo legato è una viltà franti scomparve i soldati passavano a 4 a 4 sudati e coperti di polvere e i fucili scintillavano al sole il direttore disse voi dovete voler bene i soldati ragazzi sono i nostri difensori quelli che andrebbero a farsi uccidere per noi se domani un esercito straniero minacciasse il nostro paese sono ragazzi anch'essi hanno pochi anni più di voi e anch'essi vanno a scuola e ci sono poveri e signori fra loro come fra voi e vengono da tutte le parti d'italia vedete si possono quasi riconoscere al viso passano dei siciliani dei sardi dei napoletani dei lombardi questo poi è un reggimento vecchio di quelli che hanno combattuto nel 1848 i soldati non sono più quelli ma la bandiera è sempre la stessa quanti erano già morti per il nostro paese intorno a quella bandiera 20 anni prima che voi nasceste eccola qui disse garrone e infatti si vedeva poco lontano la bandiera che veniva innanzi al di sopra delle teste dei soldati fate una cosa figliuoli disse il direttore fate il vostro saluto di scolari con la mano alla fronte quando passano i tre colori la bandiera portata da un ufficiale ci passò davanti tutta l'acera estinta con le medaglie appese all'asta noi mettemmo la mano alla fronte tutti insieme l'ufficiale ci guardò sorridendo e ci restituì il saluto con la mano bravi ragazzi disse uno dietro di noi ci voltammo a guardare era un vecchio che aveva all'occhiello del vestito il nastrino azzurro della campagna di crimea un ufficiale pensionato bravi disse avete fatto una cosa bella intanto la banda del reggimento svoltava in fondo al corso circondata da una turba di ragazzi e cento grida allegre accompagnavano gli squilli delle trombe come un canto di guerra bravi ripete il vecchio ufficiale guardandoci chi rispetta la bandiera da piccolo la saprà difendere da grande il protettore di nelli 23 mercoledì anche nelli ieri guardava i soldati povero gobbino ma con un'aria così come se pensasse io non potrò essere mai un soldato egli è buono studia ma è così magrino e smorto e respira fatica porta sempre un lungo grembiale di tela nera lucida sua madre è una signora piccola e bionda vestita di nero e viene sempre a prenderlo al finis perché non esca nella confusione con gli altri e lo accarezza i primi giorni perché ha quella disgrazia ad essere gobbo molti ragazzi lo beffavano e gli picchiavano sulla schiena con gli zaini ma egli non si rivoltava mai e non diceva mai nulla a sua madre per non darle quel dolore di sapere che suo figlio era lo zimbello dei compagni lo schernivano ed egli piangeva e taceva appoggiando la fronte sul banco ma una mattina saltò su garrone e disse il primo che tocca nelli gli do uno scapaccione che gli faccio far tre giravolte franti non gli badò lo scapaccione partì l'amico fece le tre giravolte e dopo d'allora nessuno toccò più nelli il maestro gli mise garrone vicino nello stesso banco si sono fatti amici nelli si è affezionato molto a garrone appena entra nella scuola cerca subito se c'è garrone non va mai via senza dire addio garrone e così fa garrone con lui quando nelli lascia cascar la penna o un libro sotto il banco subito perché non faccia fatica a chinarsi garrone si china e gli porge il libro o la penna e poi l'aiuta a rimetterla roba nello zaino e infilarsi il cappotto per questo nelli gli vuol bene e lo guarda sempre e quando il maestro lo loda è contento come se lo dasse lui ora bisogna che nelli finalmente abbia detto tutto a sua madre e degli scherni dei primi giorni e di quello che gli facevano patire e poi del compagno che lo difese e che gli ha posto affetto perché ecco quello che accade questa mattina il maestro mi mandò a portare al direttore il programma della lezione mezz'ora prima del finish ed io ero nell'ufficio quando entrò una signora bionda e vestita di nero la mamma di nelli la quale disse signor direttore c'è nella classe del mio figliolo un ragazzo che si chiama garrone c'è rispose il direttore vuole aver la bontà di farlo venire un momento qui che gli ho da dire una parola il direttore chiamò il bidello e lo andò in scuola e dopo un minuto ecco lì garrone sull'uscio con la sua testa grossa e rapata tutto stupito appena lo vide la signora gli corse incontro gli gettò le mani sulle spalle e gli diede tanti baci sulla testa dicendo sei tu garrone l'amico del mio figliolo il protettore del mio povero bambino sei tu caro bravo ragazzo sei tu poi frugò in furia nelle tasche nella borsa e non trovando nulla si staccò dal collo una catenella con una crocina e la mise al collo di garrone sotto la cravatta e gli disse prendila portala per mia memoria caro ragazzo per memoria della mamma di nelli che ti ringrazia e ti benedice il primo della classe 25 venerdì garrone s'attira l'affetto di tutti de rossi l'ammirazione ha preso la prima medaglia sarà sempre il primo anche quest'anno nessuno può competere con lui tutti riconoscono la sua superiorità in tutte le materie è il primo in aritmetica in grammatica in composizione in disegno capisce ogni cosa al volo ha una memoria meravigliosa riesce in tutto senza sforzo pare che lo studio sia un gioco per lui il maestro gli disse ieri hai avuto dei grandi doni da dio non hai altro da fare che non sciuparli e per di più è grande bello con una gran corona di riccioli biondi lesto che salta un banco appoggiandovi una mano su e sa già tirare di scherma a 12 anni è figliuolo di un negoziante va sempre vestito di turchino con dei bottoni dorati sempre vivo allegro grazioso con tutti e aiuta quanti può all'esame e nessuno ha mai osato fargli uno sgarbo o dirgli una brutta parola nobis e franti soltanto lo guardano per traverso e votini schizza invidia dagli occhi ma egli non se ne accorge neppure tutti gli sorridono e lo pigliano per una mano o per un braccio quando va attorno a raccogliere i lavori con quella sua maniera graziosa egli regala dei giornali illustrati dei disegni tutto quello che a casa regalano a lui ha fatto per il calabrese una piccola carta geografica delle calabrie e da tutto ridendo senza badarci come un gran signore senza predilezioni per alcuno è impossibile non invidiarlo non sentirsi da meno di lui in ogni cosa ah io pure come votini l'invidio e provo un'amarezza quasi un certo dispetto contro di lui qualche volta quando stento a fare il lavoro a casa e penso che a quell'ora egli l'ha già fatto benissimo e senza fatica ma poi quando torno alla scuola a vederlo così bello ridente trionfante a sentir come risponde alle interrogazioni del maestro franco e sicuro e come è cortese e come tutti gli vogliono bene allora ogni amarezza ogni dispetto mi va via dal cuore e mi vergogno d'aver provato quei sentimenti vorrei essergli sempre vicino allora vorrei poter fare tutte le scuole con lui la sua presenza la sua voce mi mette coraggio voglia di lavorare allegrezza piacere il maestro gli ha dato da copiare il racconto mensile che leggerà domani la piccola vedetta lombarda egli lo copiava questa mattina ed era commosso da quel fatto eroico tutto acceso nel viso con gli occhi umidi e con la bocca tremante e io lo guardavo come era bello e nobile con che piacere gli avrei detto sul viso francamente de rossi tu vali in tutto più di me tu sei un uomo a confronto mio io ti rispetto e ti ammiro grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti